Vabbè, innanzitutto un benvenuto a tutti, come diceva anche il sindaco prima, ci sono sicuramente persone della nostra amata Luccarainola, ma molte persone anche da fuori, Tommaso ci ha elencato un po' tutte le città e tutte le regioni. Io ho partecipato anche altre volte a questo premio e io devo dare atto a Tommaso di essere veramente grande, il nostro grande re, che lui ha fatto il re due o tre anni per la nostra damigella del re e poi veramente tutto quello che organizza è sempre eccezionale, puntiglioso, però ci vuole questo mestiere, quindi tutto quello che fa riesce sempre alla grande e questo insomma anche tutte le persone che sono stasera qui ne danno insomma atto, sono la testimonianza di questo. Io proprio per questo lo ringrazio perché poi è anche l'occasione per far conoscere Rocca, come diceva prima il nostro sindaco, ho capito che molte persone rimarranno, quindi magari avranno anche la possibilità domanica e domenica di visitare il nostro paese e ovviamente anche magari quelli di Mitrofi, in un percorso storico naturalistico che è sempre bello vedere. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, complimenti a tutti insomma i poeti e ancora complimenti a Tommy.